Musica Questa sera vi preparerò un croccante di gamberi rossi servito con una crema di burrata, dei pomodorini confit e un pesto leggero di basilico. Il croccante di gamberi rossi è semplicemente una fetta sottilissima di pancare dove ci sono messi dei stesi sopra dei gamberi rossi affettati finemente e mescolati con un po' d'olio all'aglio e del peperoncino. Viene salato in superficie e viene servito con questa crema di burrata. È una cosa semplice ma simpatica e molto scenografica. Grazie per la visione!